La WSK Open Cup è molto difficile per te, perché hai iniziato dal primo round e oggi stai giocando per la Champions League, ma qualcosa si è vero. Sì, è stato difficile, non è facile. La prima round in Lanato, qualificato, 30. Il problema con i Heats, 34, e poi ho avuto un buon Sonday, ho avuto un podio, che ci ha fatto in contention per la Champions League questo weekend. È tutto bene, il settore, il settore, il testo, eravamo faste, eravamo confidanti con il Chassi. Qualifiche, il settore, eravamo ancora bene. Ho scoperto dal pollo del 200, ma ho scoperto dal pollo del gruppo, il secondo. Il primo Heats è stato un po' difficile, ho avuto un incidente con i miei teamati, ma è quello che è. Ho scoperto in qualche posizione, ma poi vengo in un secondo e poi vengo in un secondo, vengo in un secondo il secondo. Ho scoperto dal pollo del pollo del pollo. Questo è stato difficile nel principio, ho scoperto un pollo di pace nelle prime due due partenze, ma poi ho scoperto dal ritmo e ho scoperto dal Zucca e vengo in un pollo del pollo del pollo, e ho anche la più più la fase del pollo del pollo del pollo. E poi, sì, il finale è difficile da mettere in parole. Per l'inizio, abbiamo avuto tre formazioni, c'era un crash, poi una flaga rosa. E poi abbiamo avuto, e è stato bene. Credo che ho iniziato a riuscire, piano di più e, come ho iniziato a riuscire, Tucca mi ha fatto, ha fatto un bel move. Poi ero, 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 ero. Un pollo di combattro per una volta, e poi quando ero tre, ho scoperto da l'ultima, e poi la red flaga viene fuori, con un grande incidente. Poi abbiamo un grande delay, e poi andiamo ancora a riuscire. E poi non ho ricevuto un riuscito. I was not on it But you know I still catch Tuka And then to be honest I don't really know what happened After that I caught him And then I think Timmek overtook me And then overtook Tuka as well And then I tried to overtake Tuka and tried to go but then I think he passed me Back immediately and was just a lot of fighting And To be honest I think I made quite a lot of mistakes but I also feel Like the result in the end was a lot Worse than it should have been Also then crashing on the last lap With Tuka was not good Because he won the championship Was between me and him to win And I knew I had to beat him And then I don't know what happened I think I got pushed from behind And then I hit him and spun And finished DNF in the end But yeah Any regrets about the last lap you could do something more Or maybe You blame him for No I don't know I don't think it was really His fault either I think okay Maybe he was a bit aggressive but he did He did good defending He knew where I was I tried to overtake him around the outside With the switchback also But I couldn't do And I think it was really just a racing incident I don't really know Know what else to say But I'd like to just also say I hope that Aliska and Nico and also Zach are okay After the big incident I think that's the most important thing Just because yeah I just hope they're all okay Thank you Thank you